Ciao a tutti e benvenuti a Libri della Biblioteca di Alessandria, la nostra nuova rubrica dedicata ai libri, perché abbiamo una biblioteca alle nostre spalle, una biblioteca che è il nostro nome, ma di libri ne parliamo forse sempre un po' troppo poco. Eppure, per chi come noi è appassionato di storia, i libri sono fondamentali, perché nonostante tutte le nuove tecnologie, credo che ognuno di noi abbia a casa una bella pila di libri storici a cui attingere quando vuole ricordare qualcosa, imparare qualcosa di nuovo. Dato che nel corso degli anni di questi libri ne abbiamo raccolti tanti, abbiamo deciso di aprire una nuova rubrica, una nuova rubrica proprio per parlare di libri. Faremo le recensioni, vi daremo consigli, e passatemi il termine sconsigli, sui libri, faremo magari qualche intervista agli autori, che può essere anche interessante per capire come si scrive un libro storico, e in generale proprio parleremo di libri. Quindi speriamo di interessarvi. Il libro di cui parliamo oggi, da cui partiamo oggi, è questo qua, Infografica della Roma Antica. Un libro, peraltro, uscito da pochissimo, quindi abbastanza recente, che provate a immaginare di cosa parla? Facile dire, di Roma Antica. È un libro molto particolare, dirlo devo dire, il libro mi è stato consigliato da Giulio, che è stato il primo a prenderlo, e che mi ha detto, guarda, è un libro particolare, che parla di Roma in un modo diverso. Ovviamente parla della Roma Antica, per intenderci, la Roma dall'epoca monarchica, repubblicana e poi imperiale. Ma è vero, lo fa in maniera completamente diversa rispetto ad altri libri. Innanzitutto parla della storia di Roma, ma non ci racconta la storia di Roma. Se avete presente, il classico libro di storia romana è un libro che racconta la storia di Roma, ci inizia a parlare del periodo monarchico, poi ci racconta del passaggio alla Repubblica, poi le guerre sannitiche, le guerre con Cartagine, il passaggio all'Impero e così via, andando ovviamente in ordine cronologico. Bene, questo libro, questo non lo fa, o meglio, accenna in più punti all'evoluzione della storia romana, ma in realtà si concentra su tutt'altro. È un libro che ci parla in realtà della società romana, ci parla dei cittadini romani, della religione romana, della politica romana e dell'esercito romano, e lo fa nella maniera più semplice e chiara possibile. Tanto che devo essere sincero, se dovessi farvi un paragone, magari lo state vedendo anche da qualche immagine che vi ho messo qua a fianco, se volessi fare un paragone con dei libri, più che con il classico libro di storia, dovrei paragonarlo con un libro di geopolitica, che parlando di uno stato moderno ce lo presenta nei suoi vari aspetti, perché è esattamente quello che fa questo libro. È un libro diviso in tre parti. Una prima parte che parla di Roma, Roma città, l'evoluzione della città, l'evoluzione dei suoi cittadini, e poi progressivamente l'evoluzione a impero. Una seconda parte che, vi dico chiaramente, è quella che mi è piaciuta di più, quella secondo me più interessante, che ci parla invece degli aspetti appunto geopolitici di Roma e dell'impero. Ci parla di politica, facendoci vedere le varie cariche, come queste si dividessero il potere, come sono evolute nel corso del tempo. Ci parla di religione, ma non raccontandoci i miti della religione romana, ma parlandoci di come la religione viene amministrata, anche qui, con i vari sacerdoti, la loro importanza, quali erano i giorni di festa, cosa si sacrificava in quei giorni di festa. Ci parla di economia, e lo fa peraltro con delle cartine bellissime, che io giuro non avevo mai trovato da nessuna parte così ben fatte, almeno su testi di larga diffusione, in cui si vedono le merci che erano commerciate. Ci parla di quanto lo Stato romano guadagnasse, come veniva speso nel corso del tempo quel denaro, quanto costassero le varie merci. E poi una terza parte, una terza parte del libro, che ci parla invece dell'esercito. Ci parla di come era l'esercito romano, ci mostra i numeri, ci fa vedere l'evoluzione di questo esercito, le campagne che ha dovuto sostenere, e alla fine ci parla anche di qualche battaglia, mostrandoci le varie tattiche di guerra attraverso qualche battaglia. Anche qua, con cartine che mostrano i vari passaggi. Beh, per quanto riguarda gli aspetti positivi, qualcosa vi ho già detto nella descrizione. Oggettivamente questo libro affronta Roma come stesse parlando di uno Stato moderno, quindi sotto tutta una serie di aspetti economici, religiosi, militari e quant'altro, e lo fa in una maniera molto molto semplice, nonostante l'argomento semplice non sia per niente. Riesce a spiegarvi, grazie a dei diagrammi molto belli, molto grandi anche, che sono facili da ricordare, una serie di eventi che, devo essere sincero, non è così facile trovare su altri libri, o che magari vengono semplicemente nominati senza spiegarli nel dettaglio. Inoltre, ed è una cosa veramente fantastica, risponde a tante domande che molto spesso uno si fa, che può essere molto semplicemente quanti legionari utilizzava Roma per difendere le sue frontiere, quanto guadagnava l'impero romano e come spendeva quei soldi, quante persone gestivano la burocrazia romana. E devo essere sincero, una delle cose che mi sono anche piaciute tanto è l'introduzione del libro, in cui gli autori hanno spiegato come sono arrivati a quei dati. E lo hanno fatto, ovviamente, vagliando tutte le fonti antiche, con un lavoro che, da una parte, è stato fatto da storici, che quindi hanno fatto il loro lavoro, hanno preso le fonti antiche, hanno preso i dati, dall'altro da degli analisti, che hanno utilizzato quei dati, trasformandoli, come si fa modernamente, con i dati degli stati moderni. Per tutto il libro, molto spesso, si dice esattamente da dove provengono i dati di cui vi stanno parlando, e questo è molto interessante. E ho trovato molto molto onesto anche il fatto che loro stessi dicano di essersi concentrati sulla parte di storia tardo-repubblicana e i primi secoli dell'impero, perché sono il periodo in cui si hanno più dati e più informazioni, quindi in cui riuscivano a essere più specifici, anche se in realtà di informazioni ci sono, grossomodo, su buona parte del periodo romano. Gli aspetti negativi sono, secondo me, principalmente due. Il primo è che questo libro, se vi aspettate il classico libro pieno di illustrazioni meravigliose, questo libro non ne ha. Fa ridere perché in realtà gran parte del libro è fatto di illustrazioni, di schemi visivi, ma sono appunto schemi. Le illustrazioni sono molto semplificate, servono per mostrare e far capire, e far anche ricordare nella maniera più facile, ma dal punto di vista visivo, tolte alcune cartine che sono veramente meravigliose, meravigliose, gli appassionati di cartine qua potrebbero avere un infarto, ebbene, in effetti, dal punto di vista visivo, di immagini particolari ce ne sono poche. Quindi se vi immaginate i classici acquarelli di battaglie, legionari, imperatori, qua non li troverete. Ma in effetti il libro non serve per quello, e quindi diciamo che questo può essere assolutamente secondario. Il secondo aspetto è che il libro è molto bene organizzato e facile da seguire se si ha già un'infarinatura di storia romana. Cioè, se prendete questo libro perché non sapete niente di storia romana e volete impararla, beh, non è il libro che fa per voi. Perché, e questo secondo me, forse non lo si capisce tantissimo dalle pubblicità che si trovano in giro, che parlano di un libro che vi spiegherà in maniera molto semplice Roma, beh, non è proprio così. Se non avete già un meno, una minima conoscenza della storia romana, questo non è il libro che fa per voi. Perché non è organizzato in senso temporale, ma è appunto organizzato per argomenti e parte dal presupposto che voi certi argomenti li conosciate già. Se non avete idea di cosa è stato il passaggio dalla Repubblica all'Impero, non capirete il perché di alcune pagine. E questo è un peccato. Quindi, se avete qualcuno a cui volete iniziare alla storia romana, forse non è questo il libro migliore. Trovategli un libro che inizi a parlare di storia romana, gli faccia la classica scansione che dicevo prima, quindi guerre sannitiche, cartaginesi, prima i re, poi la Repubblica, l'Impero, e una volta che l'avrete incuriosito con quello, dategli questo libro che risponderà a tutte le domande che si è fatto. Quindi, questo assolutamente ve lo posso dire. Per chi è fatto questo libro? Beh, ripeto, è fatto per una fascia centrale di appassionati. Come dicevo prima, non è fatto per un totale neofita, assolutamente no, quindi quella parte la scartiamo. Dall'altra parte, non è fatto per un universitario che studi storia romana, che sicuramente avrà a disposizione dei volumi che, partendo da queste stesse informazioni, le approfondiscono molto di più. Ci sono volumi interi che parlano di economia romana, che ovviamente qua viene semplificata in alcune pagine, semplificata molto bene, ma ovviamente semplificata. Quindi, se siete degli universitari che dovete approfondire singoli aspetti, questo libro probabilmente non fa per voi. Per tutti quelli che però sono in mezzo, questo libro è, a mio parere, semplicemente fantastico, perché tratta di argomenti che, nella divulgazione scritta di ampia diffusione, normalmente non vengono raccontati in nessun modo e non li trovate. Se siete stanchi di leggere per la centocinquantesima volta delle battaglie degli imperatori contro i parti, ma vorreste sapere fisicamente quelle truppe, quante erano, e come venivano pagate, e come gli si dava da mangiare, e le province che merci fornivano, bene, questo è il libro che fa per voi. E devo essere sincero, anche se siete esperti di cose interessanti qua dentro da trovare, ne troverete sempre, perché a meno che non siano veramente anni che studiate questo argomento, di cose da scoprire, qua ce ne sono sempre. Inoltre, ed è una cosa assolutamente positiva, il libro, per quanto largo, e questo anche per raccogliere appunto le grosse immagini, i grossi schemi dentro, in realtà è sottile, ed è molto facile da tenere, e io credo che francamente me lo terrò, e lo utilizzerò ogni tanto, per consultarlo, proprio per togliermi qualche curiosità, aggiungere qualche particolare alle pillole, su cose che, ripeto, non è facile da trovare. Direi di sì. Direi che il libro, a mio parere, è promosso. È un libro che è interessante, è peraltro in una fascia di prezzo assolutamente abbordabile, 19,90 euro. Quando so il prezzo ve lo dico anche. Ed è un libro che, secondo me, sta benissimo nella biblioteca di qualunque appassionato di storia romana. Quindi, assolutamente promosso. Se posso darvi un consiglio, in libreria, prendetelo, sfogliatelo un attimo, così vi fate un'idea, ma qualche immagine, ripeto, ve lo metta, vi fate però un'idea di come il libro si è sviluppato, e se vi incuriosisce, prendetelo. Perché, ve lo dico, in tutta onestà e sincerità, a me ha stupito per il numero di informazioni che sono concentrate in queste pagine. Quindi, assolutamente promosso. Se avete libri da consigliarmi, fatelo. Ci vediamo presto, con i libri della Biblioteca di Alessandria. A presto!